Dove andrai? Quali traguardi raggiungerai? Sarai tu a deciderlo. Questa è la tua avventura, il tuo viaggio, la tua caccia al tesoro. Sconfinati paesaggi naturali e vibranti cittadine ti attendono qui, a Paldea. Muoverai i tuoi primi passi in un'accademia nel cuore della regione. Qui incontrerai i tuoi insegnanti, i tuoi compagni di classe e altri studenti più anziani. Il preside dell'accademia, Clavel, ti coinvolgerà in un progetto extracurricolare speciale, la ricerca di tesori. È così che avrà inizio la tua missione per trovare un tesoro da cui non vorrai più separarti. Per cominciare dovrai scegliere il tuo primo compagno Pokémon. Sprigatito, Fuecoco o Quaxly. Anche i Pokémon leggendari Coraidon o Miraidon ti daranno una mano nella tua avventura. Con l'aiuto dei tuoi Pokémon potrai esplorare ambientazioni di ogni tipo. Potrai avventurarti in tutta Paldea a tuo piacimento. Sarai tu a scegliere dove andare. Grazie alla modalità multigiocatore, in locale oppure online, potrai esplorare Paldea insieme a un massimo di altri tre giocatori. Troverai qualcosa di nuovo in ogni angolo di questa vasta regione. Sfida i capi delle palestre Pokémon. In tutto le palestre sono otto e puoi affrontarle per la prima volta nell'ordine che preferisci. Il Team Star è un gruppo di teppisti che causa problemi all'Accademia. Intrufolati nel loro covo e sconfiggi chiunque ti sbarrì la strada. Questo è Pepe, uno studente più grande alla ricerca di spezie rare. Unisciti a lui e aiutalo a cercare queste spezie nascoste in tutta Paldea. A Paldea incontrerai Pokémon di ogni tipo. Le Chonk sfrutta il suo olfatto sopraffino per andare in cerca di cibo. Fido ha una pelle umida e liscia. Setitan ha un corpo massiccio con corni possenti. Wooper di Paldea vive nelle paludi ed è avvolto da una membrana tossica. Quando ti avvicini a un Pokémon selvatico ha inizio un combattimento. Puoi anche lasciare che i tuoi Pokémon lottino autonomamente. La terra cristallizzazione è la chiave per la vittoria. Questo fenomeno presente solo nella regione di Paldea fa brillare i Pokémon come gemme e può anche potenziare le loro mosse. Tutti i Pokémon possono terra cristallizzarsi. Alcuni cambiano addirittura il loro tipo quando si trasformano. Questi particolari Pokémon appaiono nei raid terra cristall che puoi affrontare insieme a un massimo di altri tre giocatori. Unite le forze per sconfiggere e catturare i Pokémon terra cristall selvatici. Immortala i tuoi momenti preferiti con l'app fotocamera a cui puoi accedere in qualsiasi momento della tua avventura. Vuoi modificare il tuo aspetto? Visita un salone di bellezza per cambiare look e acconciatura. Già che ci sei, scatta una foto con i tuoi Pokémon. Puoi usare le foto per personalizzare il tuo profilo e creare la tua carta d'identità. Fai un bel picnic per rilassarti con i tuoi Pokémon. Fagli un bel bagno o preparate un delizioso panino insieme. Entrambe queste attività rafforzeranno il vostro legame. Paldea ti attende! Quali tesori troverai nella tua avventura? Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Solo su Nintendo Switch.